Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, oggi dice giù le mani dalla sanità a Castelfidardo. Castelfidardo ha una realtà di poliambulatorio e di RSA che rientrano nella riforma della Casa della Salute e noi oggi non vogliamo che Mezzolani e Company vadano a ridurre le prestazioni sanitarie di Castelfidardo in una logica di tagli lineari. Castelfidardo anzi deve implementare questa attività specialistica aggiungendo l'ortopedia che da qualche anno non c'è più e deve cercare di garantire snellezza nel front office del centro di prelevo. Questo si può fare solamente aumentando il personale in piegatizio. Detto questo noi lanciamo una sfida chiara sia all'amministrazione comunale di Castelfidardo che vigili attentamente sia alla Regione Marche attraverso due interrogazioni, una mia e una del consigliere comunale Cingolani affinché si faccia chiarezza subito. Non vorremmo che qualcuno nel silenzio di questo sciagurato governo Renzi che taglia fondi alla sanità decida dalla mattina alla sera di togliere quel che c'è di buono oggi a Castelfidardo.